The Walking Dead Davvero molto importante per me Mi fanno diciamo sempre piacere i vostri mi piace E vi ringrazio sempre per il supporto che mi state dando E praticamente non il video Quindi adesso iniziamo subito con il video Allora ragazzi finalmente è uscita quella che è la data appunto di uscita Quindi l'hanno rilasciata Quella che è appunto la data di uscita della settima stagione di The Walking Dead Ebbene si la premiere andrà in onda il 23 ottobre E dopo i primi episodi ci sarà una pausa La seconda metà della stagione sarà quindi trasmessa a partire da febbraio 2017 Tra le novità anche l'introduzione del regno e di molti nuovi personaggi Tra cui la Tigre e Shiva ed Ezigiel Che sarà interpretato da Kerry Python Come si può vedere nel trailer Quindi ragazzi questo è diciamo uno screen che ho preso da un articolo Che praticamente narrava, cioè diceva di questa cosa qua Se riesco a trovare ragazzi l'articolo volentieri ve lo lascio in descrizione Perché ho preso lo screen e dopo sinceramente non mi ricordo Cioè non mi sono preso anche il link dell'articolo Però se riesco a trovarlo sicuramente ve lo lascio in descrizione Comunque sia la premiere andrà in onda il 23 ottobre Ma il 23 ottobre si tratta della data di uscita in America Quindi appunto in America Per quanto riguarda invece in Italia ci sarà un giorno dopo Quindi il 24 ottobre Così praticamente come sempre poi alla fine ci sarà un giorno dopo Perché è in contemporanea mondiale The Walking Dead Quindi come sapete tutti uscirà un giorno dopo Praticamente l'uscita della puntata appunto in America Quindi occhi agli spoiler ragazzi Il 28 ottobre vi consiglio proprio di non accedere su Facebook Perché praticamente su Facebook condividono tutte le cose della stagione Quindi dato che è un episodio molto importante Sarà molto importante il primo episodio Vi consiglio questa cosa Non vedete proprio internet per quanto riguarda The Walking Dead Perché praticamente vi spoilerano tutto Cioè veramente dovete stare attentissimi su questa cosa Infatti io praticamente non farò mai accesso né al canale che penso Oppure al canale lo faccio solamente per informarvi di alcune cose Magari faccio qualche video Però comunque ragazzi sappiate che il 23 ottobre non... Cioè vi do questo consiglio io appunto Non collegatevi perché è veramente qualcosa di assurdo per gli spoiler Comunque nulla ragazzi Questo era soltanto un video dove volevo informarvi appunto di questa cosa qui Ovvero che la data di uscire del trailer final... Cioè della settima stagione scusate Finalmente è stata rilevata... Cioè rivelata Quindi il 24 ottobre sarà disponibile la prima puntata su Fox Che verrà trasmessa sul canale 112 di Sky Quindi per tutti i possessori di Sky possono guardare la puntata Altrimenti la guardate un giorno dopo in streaming Per chi non ha Sky Per chi non ha Sky appunto E' disponibile comunque sia ogni volta in streaming Quindi nulla ragazzi Questo video finisce qui Spero vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo di lasciare un mi piace Iscrivetevi se non avete ancora fatto Per non perdere i prossimi contenuti di The Walking Dead Vi ringrazio ancora una volta ragazzi per i 2.000 iscritti Finalmente li abbiamo raggiunti Appena ieri più o meno Davvero ragazzi un traguardo fantastico E vi ringrazio tutti quanti per essere iscritti al mio canale Perché è davvero una soddisfazione vedere un pubblico crescere in questo modo Poi su The Walking Dead Perché comunque ragazzi Quando ho aperto il canale Sinceramente non mi aspettavo un traguardo del genere Ma farò un video speciale apposta ragazzi Quindi molto probabilmente farò un video speciale appunto per i 2.000 iscritti E quindi nulla Passate inoltre la pagina Facebook Link nella pagina Facebook in descrizione Se volete scrivermi Mandare messaggi Condividere cose Insomma Commentare Fate voi Link in descrizione E noi ci entriamo in un prossimo video Un saluto da Foxionn e The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ciao a tutti